Ecco, è andato. Puoi fare con questa qui un massimo di 30 minuti. Però 30 minuti la facciamo a volta, non è che ti è tanto a memoria. Ha una scheda a 32 giga. E' una scheda che ne ha perso sempre pochi. Ah no, è la macchina. Doucho, non è la macchina. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.